E' fuorviante approvare una legge regionale sull'assetto della sanità sapendo che il Molise è commissariato e che questa legge verrà certamente bocciata dalla Corte Costituzionale. In Molise si è creato un consociativismo pericoloso tra sinistra e destra che mette in pericolo i livelli minimi di assistenza garantiti dalla sanità. La denuncia arriva da Lucio Pastore nella sua qualità di componente del Comitato Bene Comune. Per il primario del pronto soccorso di Isernia c'è ben altro sotto l'apparente intesa cordiale che si è ormai stabilita tra maggioranza e minoranza in Consiglio regionale. Da un punto di vista formale non si comprende questo passaggio. Il nostro Consiglio, cioè la nostra regione è in piano di commissariamento, è commissariata. Quindi diciamo i consigli regionali non ha alcuna giurisdizione per quanto riguarda la sanità. I piani operativi hanno ricevuto una bocciatura netta e chiara da parte del tavolo tecnico. Il Tarmolis ha sospeso alcune decisioni relative a questi piani operativi. Allora perché fare una legge regionale che renda i piani operativi attuabili? La parte di un organismo che non ha la potestà giuridica di poterli fare. Un'unica spiegazione c'è. Nel momento in cui verrà approvata la legge, al momento in cui questa verrà poi abolita, quindi da parte della Corte Costituzionale, ci sarà un lasso di tempo. In questo lasso di tempo si vogliono attuare tutte quelle operazioni di privatizzazione che sono evidenti nei piani operativi e poi sarà difficile rimuoverli. Quindi ci sarà un meccanismo strategico per portare avanti comunque la privatizzazione del Molise.